Buongiorno, bentrovati. Appuntamento di sabato 16 luglio con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Apriamo l'appuntamento odierno come sempre con il Santo del Giorno. Oggi viene ricordata la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il primo profeta di Israele. Dimorando sul Monte Carmelo ebbe la visione della venuta della Vergine che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagina tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria che portando in sé il Verbo Divino ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, costituirono una cappella dedicata alla Vergine. Proprio sul Monte Omonico, il Monte Carmelo, i monaci carmelitani fondarono inoltre dei monasteri in Occidente. Il 16 luglio del 1251 la Vergine circondata da angeli e con il bambino in braccio apparve al primo padre generale dell'ordine, il beato Simone Stocca al quale diede lo scapolare col privilegio sabatino, ossia la promessa della salvezza dall'inferno per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del purgatorio il sabato seguente alla loro morte. Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che viene ricordata oggi dalla Chiesa Cattolica, sicuramente questo ricordo importante della Madonna del Carmelo. Noi apriamo la nostra rassegna stampa come sempre con le prime pagine dei quotidiani, partiamo dal centro, le quattro edizioni che prenderemo in esame. Andiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, eccola qui, il titolo principale riguarda il maltempo di cui vi avevamo parlato anche ieri nel corso dei nostri Tg. È stata rinviata anche la Notte Bianca che era in programma questa sera a Pescara, strade allagate, alberi caduti a Pescara, fiume di fango a Montesilvano, problemi anche in altre zone della regione, soprattutto nel Terramano. Vediamo in alto perché ci sono dei titoli importanti che riguardano la cronaca internazionale, innanzitutto il ritorno purtroppo del terrorismo in Francia, l'attentato di Nizza, 84 morti, ci sono tre italiani tra i dispersi. Poi la notizia proprio delle ultime ore riguarda la Turchia, vedete questo titolo anche sul centro, esplosioni ad Ankara, colpo di stato militare in Turchia, Erdogan in fuga, poi il primo ministro è rientrato, il colpo di stato è fallito, ma ovviamente tutto questo dimostra come in questo momento in Turchia ci sia davvero grande tensione. Torniamo ai titoli di casa nostra, la fotonotizia riguarda un dramma accaduto a Montesilvano, un incidente stradale purtroppo fatale per un 61enne, infatti è morto il ciclista che tre giorni fa era stato colpito dalla portiera di un'automobile. Poi nelle cronache, appello al vescovo di Pescara, lasci Don Massimiliano qui a Fontanelle, raccolte oltre 600 firme. E poi nella zona stadio il direttore di un supermercato reagisce e sventa la rapina proprio al punto vendita, mettendo in fuga a mani vuote, tra l'altro i malviventi. E poi i balneatori, spiaggia all'asta, ora il governo dicono deve aiutarci. E poi a Francavilla al mare l'asilo nido aperto anche ad agosto. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme l'edizione sempre del quotidiano d'Abruzzo di Chieti, Lanciano, Vasto. Anche in questo caso vediamo quali sono i titoli principali trattati nella prima pagina. In questo caso si parla di scuola nel titolo di apertura del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. Caro Menza, scuola, mamme si rivolgono al Tar, l'avvocato Febbo, la delibera approvata in giunta va annullata. La fotonotizia riguarda il calcio. Chieti, tifosi neroverdi in strada. Ieri c'è stata una manifestazione, ma il futuro della formazione teatina, il futuro calcistico, è a rischio. E poi nelle cronache a Vasto, spiagge libere, il Comune deve pagare i bagnini, ordine della Capitaneria. E poi ad Ortona ecco i piani dell'ASL per l'ospedale Bernabeo e anche per il nosocomio di Guardia Grele. E poi ancora Megalo 3, H chiede il risarcimento, costruzione negata. E poi ancora calcio, nuovo stadio e cittadella, sogni infranti, Lanciano dopo Imaio. Sono queste ore importanti per conoscere il futuro proprio del calcio lancianese dopo la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro. Lanciano che lo scorso anno ha militato in Serie B, poi con la penalizzazione, i play-out, la sconfitta proprio nei play-out salvezza con la Salernitara. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Si parla di cronaca, cronaca giudiziaria. In questo caso a Giulianova l'assassino torna in cella, era stato scarcerato per un cavillo, ma è subito scattato. L'arresto visse per l'uomo accusato di aver cagionato la morte di un automobilista dopo una lite in strada accaduta poco meno di un mese fa, proprio nel centro di Giulianova. Poi torniamo al maltempo, provincia flagellata, in questo caso la provincia di Teramo, una bomba d'acqua, allagamenti, danni e paura. Vedete quest'immagine con questo sottopasso e quest'auto completamente sommersa dall'acqua. E poi le cronache a Roseto, razzismo su Facebook, la polizia cerca i responsabili. E poi a Giulianova, spiaggia all'asta, parlano i balneatori che dicono che l'Unione Europea ci vuole rovinare tutti. E poi vicino alla banca, valigia lasciata in piazza a Teramo, scatta l'allarme bomba. E poi c'è la prima intervista del nuovo questore del capoluogo Aprutino, che dice la priorità più controlli sulla costa. Si tratta del nuovo questore di Teramo, in questo caso Enrico De Simone, che ha preso il posto di Giovanni Febo. Andiamo avanti, dopo la prima pagina del centro di Teramo, vediamo quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. E poi andremo a dare uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico perché ci sono diverse notizie importanti. Allora ecco la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Braccio rotto, bimbo portato a Roma, la madre protesta con l'ASL. Non potevate curarlo al San Salvatore? Questa è la domanda della donna. Tutto questo è accaduto all'Aquila. E poi ancora maltempo, in questo caso la neve sul Gran Sasso, temperature invernali in montagna. L'ondata di maltempo continuerà anche oggi a proposito di maltempo e di previsioni. Più tardi avremo il consueto collegamento con il nostro meteorologo Giovanni De Palma per sapere cosa accadrà nelle prossime ore, proprio per quanto riguarda questa ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione. Andiamo a vedere allora le notizie nelle cronache. La prima pagina del centro, sempre di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Avezzano, disabili, chiesto il processo per la casa Lager. E poi tre assoluzioni, sempre ad Avezzano. Spaccio di droga, condanne invece per sei persone. Poi L'Aquila, nuove regole per la sosta in montagna. Infine, Sulmona, piano sanitario, salta il Consiglio comunale. Ed è bagarre. Lasciamo dunque le prime pagine del centro. Andiamo a vedere insieme a questo punto i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Come detto, tanti gli argomenti trattati sui quotidiani che troverete oggi in edicola. Partiamo dal fatto quotidiano. Il lupo solitario ne ammazza più dei giadaisti. Si parla ovviamente, in questo caso, della strage di Nizza. 84 morti e 200 feriti. Poi vedete il titolo più a centro pagina. Colpo di Stato in Turchia. Raid aerei. Erdogan in fuga. E poi, comunque, rientrato ad Istanbul. E ha tranquillizzato la popolazione. Siamo al giornale Islam Exit. A Nizza altri 84 morti. Enesima strage per mano di un musulmano, altro che Brexit. Scrive il giornale. L'emergenza per l'Europa e la convivenza impossibile con l'Islam. E poi, golpe in Turchia. Destituito Erdogan. Ma poi, nelle ultime ore, nelle ultimissime ore, si è saputo che il golpe dei militari in Turchia sarebbe fallito. E il presidente Erdogan, il primo ministro, è rientrato ad Istanbul. Andiamo avanti. Libero, islamico di razza. Il perché dell'ennesimo massacro. Si parla, in questo caso, sempre dell'attentato di Nizza. Ancora una volta la Francia colpita da un attentato. E poi colpo di stato in Turchia. Situazione grave. Andiamo ancora avanti. Corriere della Sera. I bimbi perduti di Nizza. Morti, feriti, orfani, minorenni. Sono tra i più colpiti nella strage. Il premier francese Valls, dice un terrorista legato all'Islam radicale. E' colui che a bordo di questo camion ha asseminato morte e distruzione, proprio in una delle vie principali di Nizza, dove si stava festeggiando il 14 luglio la ricorrenza della presa della Bastiglia. E poi vedete in alto, in Turchia, colpo di stato, la fuga di Erdogan. Siamo al quotidiano La Repubblica. A colpo di stato, Turchia nel caos, Erdogan dice resistete il discorso del Presidente, del Primo Ministro alla popolazione. Poi l'altro titolo principale che arriva dalla Francia, la strage dei bimbi, orrore a Nizza. Come vedete sono soprattutto due titoli principali dei quotidiani di oggi in edicola. Ora proseguiamo, siamo alla stampa di Torino, Francia sotto attacco, il terrorismo a Nizza, il camion si getta sulla folla. Un attentato, oltre 70 morti, come abbiamo visto i morti sono purtroppo 84. Ci sono molti feriti, alcuni in condizioni molto gravi e tra questi ci sarebbero tre italiani. Siamo al messaggero, Turchia, colpe dei militari, Erdogan resiste, scontri a fuoco. Poi il sangue dei bambini in riferimento proprio all'attentato di Nizza. E poi vediamo dal messaggero un altro titolo importante che riguarda la tragedia accaduta in Puglia pochi giorni fa, lo scontro fra treni, l'inchiesta proprio sullo schianto dei treni, indagati i vertici di ferro, tranviaria. E dunque passi avanti nell'inchiesta della procura di Trani. Siamo al quotidiano, il manifesto, golpe, vedete il titolo principale che riguarda quello che è accaduto nelle ultime ore in Turchia. E poi in alto, escalation di morte, 84 vittime. Hollande richiama i riservisti in Francia e allarme per l'ennesimo attentato. Siamo al quotidiano, l'unitale Promenade d'Ange, orrore per la strage del 14 luglio, 84 morti, fra loro 10 bambini. Vedete questa panchina con questo mazzo di fiori, proprio emblematica del lutto che c'è in Francia. Tre giorni di lutto nazionale per questa tragedia accaduta in Costa Azzurra. Siamo al mattino di Napoli, Lizza, l'orrore e la beffa, si parla ovviamente dell'attentato in Francia. E poi in alto, golpe in Turchia, esercito al potere. Secolo XIX, quotidiano di Genova, in alto anche qui si parla della situazione in Turchia. E poi a centro pagina il titolo, in pratica tutta pagina con questa foto, la strage dei bambini. Purtroppo 10 bambini morti nell'attentato di Nizza, dove è morto, anche è stato ucciso l'attentatore. Allora lasciamo i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Andiamo a vedere a questo punto, anche prima di tornare ai quotidiani di casa nostra, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Mancio la resa dei conti, muro contro muro, soluzione negli Stati Uniti. Il tecnico parte oggi con la squadra per Portland, dove nei prossimi giorni avrà il faccia a faccia decisivo con Toir. Mancini vuole chiarezza, in caso di addio l'ex Leonardo o Bielsa sono le alternative. Dunque Mancini potrebbe addirittura lasciare l'Inter se non dovesse avere certezze sul rafforzamento della squadra. E poi Nuovo Milan, Montella tra silenzi e tecnologia. Vedete il titolo in giallo di fianco e poi in alto Juve tutto sulle pipita, anche Zazza e Pereira per arrivare ad Iguain. Dunque la Juventus punta a soffiare al Napoli il giocatore argentino capocannoniere della passata stagione in Serie A. E siamo al Corriere dello Sportico, è in sfida totale, Juve scatenata sul pipita il Napoli-Famuro. E poi in alto Mancini e l'Inter, confronto negli Stati Uniti. E poi ha vinto la Lazio, Keita si arrende e va in ritiro. E poi il Milan cambia e tratta Mustafi, Musacchio è troppo caro la difesa rosso-nera. Milan ha le prese anche con il passaggio ai cinesi. E poi siamo a tutto sport e il pipita che vuole la Juve, dunque Juventus scatenata, potrebbe soffiare al Napoli l'attaccante principe della passata stagione. E poi in alto il titolo che riguarda il Torino, Iago, tutto che sta per Mijajlovic, il tecnico della formazione Granata. Lasciamo dunque i titoli dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola. Abbiamo visto anche i titoli dei tre quotidiani sportivi sempre in edicola questa mattina. Andiamo a vedere i primi titoli invece che riguardano la nostra regione. Ripartiamo dal quotidiano Il Centro. Tartarughe spiaggiate perché soffocate dalle reti. Il dirigente dello zoo profilattico spiega le cause della moria di Caretta Caretta, che è questa specie di tartarughe. Negli ultimi giorni diversi esemplari sono morti nel mare antistante la nostra regione. Non c'è alcuna epidemia, esemplari feriti a largo, debilitati e spinti dal mare. E poi la politica, no alla riforma, il centrodestra si organizza e dunque il centrodestra dice no alla riforma costituzionale. Oggi intanto a Pescara nel pomeriggio ci sarà in comune il ministro Maria Elena Boschi. Ma noi per quanto riguarda il no alla riforma e sul centrodestra che ieri si è riunito a Pescara proprio per presentare questo comitato, andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Nasce questo comitato regionale per il no al referendum. Possiamo parlare anche di un riavvicinamento tra tutte le forze del centrodestra. Sì, è vero, non solo riavvicinamento ma come dire, nuova iniziativa che anche dà la netta sensazione che il centrodestra riparte in Abruzzo, riparte in tutta Italia, riparte qui. C'è un splendido spirito collaborativo che intorno a questo comitato per il no è nato fra i rappresentanti di noi con Salvini che sarebbe la Lega Nord qui in Abruzzo e con Fratelli d'Italia. Anche da questa conferenza stampa è emerso e è venuto fuori uno spirito costruttivo, una voglia di stare insieme, una voglia di tornare a vincere così come abbiamo vinto negli anni passati. Questa riforma costituzionale Renzi-Boschi non ci piace perché di fatto illude i cittadini sulla riduzione dei costi della politica e di funzionamento del nostro Parlamento, illude che venga abolito il Senato ma in realtà il Senato resta in piedi solo che è molto peggio di quello attuale perché diventa una specie di dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci e soprattutto diventa un Senato con un sistema elettorale di secondo livello per cui ci si allontana dalla scelta dei cittadini che non scelgono direttamente i loro rappresentanti. Con questa legge elettorale che cosa sostanzialmente accade? Che una netta minoranza del Paese, non oltre il 25% degli italiani, sceglierà chi comanderà ed è già questa una grave lesione alla democrazia. Ma chi governerà non solo avrà nelle mani la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati ma, cosa ancora più grave, nominerà quegli unici organismi di garanzia che prevede la nostra Costituzione e cioè i giudici costituzionali, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e, dulcisto in fundo, la scelta del Presidente della Repubblica. Abbiamo ascoltato nell'intervista il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Andiamo a vedere le pagine della cronaca d'Abruzzo dal messaggero. Noi, nell'inferno di Nizza, due coppie di colonnella e Francavilla, un ingegnere di Chieti. Sono tutti in salvo, Alessandra Falcioni. Abbiamo sentito sparare, ci siamo messi a correre nella folla. Queste le drammatiche testimonianze degli abruzzesi testimoni dell'attentato di Nizza. E poi vedete la foto. La bufera spazza via la notte bianca, neve in montagna, rinviato a Pescara. L'appuntamento di questa sera con la notte bianca dell'Adriatico. Poi altri titoli. Pescara, cronaca, sventa rapina al market a colpi di casco. Poi immobile alla Asle, nei guai cetrullo, l'ex direttore generale da Mario. E poi la cronaca, Montesilvano, sportellata, uccide ciclista. Andiamo a vedere l'altro titolo del quotidiano Il Messaggero. Altri titoli che riguardano proprio la cronaca regionale. C'è il ritorno proprio alle testimonianze degli abruzzesi che erano presenti a Nizza nel momento dell'attentato dell'altra sera. E poi l'articolo che riguarda proprio il servizio che abbiamo visto pochi secondi fa. La centrodestra torna il notaio Pastore per sostenere il no al referendum. Avete visto proprio nelle immagini, nel tavolo dell'incontro degli esponenti di centrodestra. Proprio il senatore Andrea Pastore che è rientrato dunque nella scena politica dopo qualche tempo di assenza proprio per partecipare a questo comitato per il no al referendum. Come abbiamo visto tanti titoli sui nostri quotidiani per quanto riguarda il maltempo. Quella di ieri è stata una giornata difficile proprio nella nostra regione per il maltempo. In particolare sulla costa tra le province di Teramo e Pescara. Per saperne di più e per sapere cosa accadrà nelle prossime ore chiediamo l'UMI al nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, gran lavoro anche per voi esperti di meteorologia perché nelle ultime ore c'è stato questo annunciato tra l'altro che ci avevi più volte annunciato il ritorno del maltempo nella nostra regione. Ieri è stata una giornata difficile soprattutto nelle zone costiere. Ci sono state piogge violente, vento soprattutto, temperature in picchiata di 10-12 gradi. È tornata la neve in montagna come abbiamo visto anche dai titoli dei nostri giornali. Situazione difficile che continuerà anche oggi o ci sarà un miglioramento delle condizioni del tempo Giovanni? Eh sì Paolo, purtroppo continuerà ancora il maltempo perché la nostra penisola continuerà ad essere interessata da questa perturbazione, da questa circolazione depressionaria che spinge ancora, favorisce l'arrivo di mazze ad aria fredda ed instabile proprio sulle regioni adriatiche e di conseguenza avremo ancora un cielo numoloso molto numoloso con dei rovesci segnatamente sulla fascia orientale della nostra regione dove potrebbero ancora manifestarsi precipitazioni di una certa consistenza poi in graduale, lenta attenuazione però a partire dalla serata ma ancor più nella giornata di domenica. Quindi una situazione, una giornata ancora compromessa dal punto di vista meteorologico con venti settentrionali che soffriranno ancora piuttosto sostenuti e temperature in ulteriore diminuzione perché insomma già sono diminuiti i valori tant'è che è tornata la neve sui nostri rilievi ma nelle prossime ore comunque è previsto in ulteriore lieve diminuzione delle temperature e continueranno a manifestarsi le precipitazioni che nella giornata di ieri sono risultate particolarmente abbondanti in diverse località costiere, cito due valori sia la città di Monte Silvano dove sono caduti quasi 80 mm di pioggia in 24 ore ma il dato eclatante è stato quello di Pineto dove si sfiorano addirittura 200 mm di pioggia caduti in 24 ore, un valore incredibile se si tiene presente il fatto che solitamente a luglio piove pochissimo o qualche talvolta lungo la fascia costiera non piove per niente quindi non si registrano precipitazioni quindi questo lo dice lunga su questo peggioramento che ripeto è stata una perturbazione autunnale è una perturbazione di stampo autunnale che si manifesta, si è manifestata durante proprio il cuore nel cuore dell'estate quindi nelle prossime ore ripeto continueremo ad avere rovesci diffusi sulla fascia costiera sul settore orientale con una moderata ventilazione settentrionale e il mare risulterà ancora agitato, ci saranno delle mareggiate però ecco c'è la buona notizia Paolo perché la tendenza è verso un graduale miglioramento del tempo ma il miglioramento si manifesterà soprattutto nella giornata di domenica quindi con il passare delle ore dalla tarda mattinata nella seconda parte della giornata di domenica il tempo migliorerà e poi la situazione continuerà a migliorare anche nei primi giorni della prossima settimana perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione tornerà l'alta pressione già da lunedì e favorirà non solo un miglioramento, un ulteriore miglioramento del tempo ma anche una graduale ripresa, un graduale aumento delle temperature anche sulla nostra regione Paolo Bene, grazie, grazie Giovanni dunque tornerà il bel tempo nei prossimi giorni, nelle prossime ore dunque saranno contenti coloro che in queste ultime ore invece hanno dovuto rinunciare alla tintarella e al mare grazie Giovanni, appuntamento ovviamente con te lunedì nel corso del nuovo appuntamento il primo della settimana con Mattino 6 grazie, buona giornata e buon lavoro Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 Ringraziamo Giovanni De Palma, il nostro meteorologo per essere e rimanere sempre informati vi ricordo www.abruzzometeo.org eccolo il sito in quadrato con questa home page proprio con le previsioni del tempo aggiornate che riguardano la nostra regione poi vi ricordo anche la pagina Facebook del nostro meteorologo eccola qui, dunque gli strumenti importanti proprio per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo e noi a proposito di tempo torniamo alle pagine dei nostri quotidiani dove si parla proprio dell'ondata di maltempo delle ultime ore vedete siamo alle pagine di Pescara del centro mezza città lagata dal nubifragio il comune rinvia la notte bianca fiume di fango dal colle rivera vietata alle auto vedete le immagini con tanti problemi come detto e come ci ha detto anche Giovanni De Palma soprattutto sulla costa fra le province di Pescara e Teramo più avanti vedremo anche un servizio andiamo avanti cronaca sempre dalle pagine di Pescara del centro dipendente del Tigre sventa una rapina s'avventa su un malvivente con il taglierino e lo mette in fuga altre due notizie una triste che riguarda la scomparsa dello storico titolare del ristorante Mare Chiaro di Pescara è morto Bruno Luciani e poi il falso allarme bomba all'enaia di piscina sgomberata indaga la polizia di Pescara e poi ancora avanti si parla della decisione dell'Unione Europea sulla direttiva Bolkstein non subiremo le decisioni dell'Europa i balneatori sullo stop alle proroghe delle concessioni così mettono in ginocchio migliaia di famiglie il governo ci aiuti e poi via i divieti dal mare ma il sindaco accusa chi ha sbagliato pagherà proseguiamo siamo ancora alla cronaca di Pescara le pagine di Pescara del centro si parla in questo caso della crociata se così la vogliamo chiamare dei residenti di Fontanelle raccolte 658 firme consegnate al vescovo di Pescara Tommaso Valentinetti residenti che chiedono di far restare nella parrocchia di Fontanelle proprio Don Massimiliano e dunque i residenti sono dalla parte proprio del sacerdote che secondo le direttive invece del vescovo di Pescara dovrebbe essere trasferito e poi parliamo ancora del comune di Pescara in questo caso di via Pepe perché sono in arrivo le case da affittare ai padri separati si parla di edinizia convenzionale ieri mattina c'è stata questa conferenza stampa nella sala Aternum del comune di Pescara andiamo a vedere il servizio abbiamo ascoltato l'assessore Adelchi Sulpizio e il nuovo soprintendente regionale Abruzzo vediamo oggi innanzitutto non un nuovo progetto ma la prima pietra oggi ne annunciamo che verrà posta la prossima settimana nel senso che inizieranno questi lavori ricordiamo che un investimento di 1.200.000 euro circa di fondi pubblici e vedrà la realizzazione di 12 appartamenti destinati a cosiddetto ceto medio il ceto che è anche più in difficoltà che vive tutte le difficoltà giornaliere nell'affrontare la difficoltà di tutti i giorni in questo ringandiamo il soprintendente che oggi è qui presente per quale motivo? all'interno dell'area questo è un progetto che è iniziato nel 2008 è anche un motivo di orgoglio che abbiamo dato un imprimatur nell'ultimo anno che ci ha consentito di iniziare subito i lavori che speriamo di consegnare alla città al massimo in un anno e mezzo all'interno di questo terreno ci sono sei piante se non sbaglio sei pini giovani pini anche da Boy Scout a me dispiace tagliarli li dico e allora che cosa abbiamo fatto? abbiamo chiesto un'aiuto alla sovrintendenza sovrintendenza non c'entrava in questo senso perché non si tratta di un bene vincolato abbiamo chiesto come ci potete dare una mano anche su questo e loro ci hanno dato anche una soluzione nel senso troviamo per ogni pina battuta ne pianteremo tre noi per questo anche a nome di tutta la città di Pescara va un grosso grazie alla sovrintendenza che ci ha dato anche un mano di tipo di anche di consulenza che la consulenza anche data loro è gratuita mentre a volte si vanno a richiedere anche ad architetti bisogna pagare quindi un doppio grazie al sovrintendente che lo ringraziamo a nome di tutta la città di Pescara possiamo dire che lavorerete sempre più a questo punto in sinergia con l'amministrazione comunale di Pescara? questo si spera ma specificamente per questo argomento siamo noi che ringraziamo il comune di Pescara perché come ha già detto l'assessore si tratta di una zona non vincolata e noi un mio vecchio motto è di non lasciarci vincolare dai vincoli si deve concertare è un buon approccio quello di un comune che si rivolge a un consulente pubblico qualificato per un'operazione che è veramente virtuosa perché sostituire 6 pini con 3x6 18 però posti in un punto dove effettivamente la fruizione può essere più produttiva piuttosto che in un angolo di strada ecco potrebbe è secondo me un'operazione che può dare l'esempio per un futuro torniamo in studio ora ci fermiamo per qualche istante poi torneremo per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo la pagina dell'area metropolitana di Pescara dal centro Francavilla l'asilo nido apre anche ad agosto parte servizio di campus dedicato ai figli dei genitori che lavorano e poi polemica pianella lampade votive mai pagate ora arriva la stangata spoltore trasporto per le terme oggi le ultime domande infine c'è pagati un defibrillatore per la scuola dono della BCC all'istituto comprensivo via ai corsi da parte della Croce Rossa italiana siamo a Montesilvano la tragedia come vedevamo prima dal titolo in prima pagina del centro è morto il ciclista colpito dallo sportello Oscar Castellano si è spento tre giorni dopo l'incidente l'automobilista che ha aperto la portiera deve rispondere di omicidio colposo e poi l'adro di Grondai è scoperto a Villa Falini i residenti della zona notano i movimenti nella casa abbandonata e fanno arrestare un cinquantenne e poi Montesilvano rimborsi per i libri di testo da mercoledì i pagamenti andiamo avanti siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara il PD di Penne siamo alla politica verso il commissariamento dopo la sconfitta alle elezioni e poi Rosciano Sospiri consigliere regionale di Forza Italia dice stop al piano delle vasche anti-esondazione e poi sulla Maiella con la forestale Caramanico due giorni con il Bioblitz gli esperti accompagnano le famiglie nell'area protetta a Castiglione a Casauri la trebbiatura torna all'antico mentre tornando a Penne Brioni apre un negozio a Londra si parla dell'azienda Roma Style Brioni che dunque apre questo nuovo punto vendita proprio nella capitale inglese in basso titolo ridato per Cicchelli campione di 75 anni manager in Belgio dedica la vittoria ai compaesani di San Valentino infine tocco da Casauri festa in paese invaso da 1500 podisti siamo alla pagina di Chiedi del centro il ricorso Megalo 3H chiede il risarcimento l'avvocato di Tonno dice negato il permesso di costruzione alla società nonostante il silenzio assenso del comune e poi nel vastese bagnini sulle spiagge libere ma i comuni non hanno i soldi in basso menze più care ricorso al tardi 20 mamme siamo all'Aquila sosta a pagamento sul Gran Sasso ecco le nuove regole Giuliani del centro turistico difende la scelta stop all'anarchia ipotesi di ingresso limitato pronti a sbarrare anche la strada e poi il dibattito mari fiamma ap industria boccia la proposta e poi in basso invece si parla di cronaca braccio fratturato bimbo trasferito a Roma la madre attacca la ASLE siamo a Teramo si torna a parlare di maltempo provincia flagellata proprio dal maltempo bomba d'acqua danni allagamenti e paura e poi la cronaca Giulianova arresto bis l'omicida torna in carcere il delitto di Giulianova era stato rimesso in libertà per un cavillo ma il GIP ha firmato una nuova ordinanza siamo arrivati alle pagine dello sport dal centro dunque andiamo a vedere insieme invece le pagine provinciali del messaggero ripartiamo ovviamente da Pescara con il maltempo anche in questo caso il diluvio si porta via la notte bianca che è stata rimandata e rinviata al 24 luglio andiamo ancora avanti cronaca giudiziaria in questo caso edificio venduto alla ASL avvisi di fine indagine a Cetrullo e da Mario via Rigopiano truffa e turbativa d'asta per l'imprenditore e l'ex direttore generale sotto accusa altri tre dirigenti del lente il PM dice prezzo gonfiato e poi cronaca banditi messi in fuga a colpi di casco e poi CGL Senegal un calcio al razzismo domani ci sarà questa partita proprio a favore dell'integrazione e poi la cronaca ciclista colpito dallo sportello dell'auto morte clinica procedura per l'espianto siamo all'Aquila Gran Sasso selva di proteste per la sosta a pagamento e poi viabilità via Corrado Quarto il terzo lotto a una ditta pescarese poi il cantiere Fontana Luminosa ripartono i lavori bloccati dopo la donata degli alpini vediamo in basso usi civici sono abusive le antenne a Monteluco e poi processo per i maxi affitti senatore chiede una ispezione seconda pagina della cronaca di l'Aquila in questo caso siamo però alla pagina di Avezzano Sulmona pendolare in allarme ma la Pescara Roma è una linea sicura parlano gli esperti dopo la tragedia avvenuta in Puglia il binario unico tanto famigerato dopo l'incidente in Puglia non dà preoccupazioni Tagliacozzo trovata la macchina del furto del Bancomat poi ancora Marsi Cavezzano 16 anni di carcere per 6 spacciatori 5 miglia bus rugby nei guai il responsabile dell'ANAS secondo il GIP l'assenza di Garrail lungo la piana potrebbe essere una concausa ricorderete l'incidente accaduto proprio al bus che trasportava dei ragazzi di una squadra di rugby un incidente che provocò dei morti e poi Avezzano piazza Torlonia inaugurati i giochi i lavori al parco sono stati effettuati dagli operai del comune in tempi rapidi a Sulmona niente consiglio comunale sulla sanità e rivolta e sempre nella città Peligna nominate le commissioni consigliari siamo a Chieti la pallacanestro diventa testimonial turistico il progetto è stato presentato con la partecipazione del patron della formazione cestistica di Cosmo il sindaco di Primio e le associazioni hanno espresso il parere positivo fondi al Marrucino non passa la delibera e poi delle femmine e di Primio parlano del futuro della Carichieti a fondo pagina Ateneo Guerra nel Consiglio di Amministrazione a Capasso il primo round siamo alla pagina di Lanciano Vastortona le sei sorgenti Sasi un potabilizzatore nel cuore della Maiella il progetto è stato presentato alla sottosegretaria Chiavaroli il presidente dice basterà per migliorare la captazione idrica vasto incidenti nel giorno dell'isola pedonale mentre a Dortona l'ospedale non può perdere il pronto soccorso il sindaco Dottavio scrive all'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci è guerra aperta sul piano sanitario poi ancora vasto Stroke Unit al Sampio da Pietrelcina il nosocomio Vastese si assicura l'unità di neurologia assicurazioni contro Italia a Lanciano strade arrivano i dissuasori di velocità siamo a Teramo l'omicida torna in carcere ma stavolta non parla è durato meno di 24 ore il periodo di libertà del caldaista di Giulianova come sto va le prime parole la bambina testimone in procura dunque è tornato in carcere il sessantenne di Giulianova e poi c'è l'intervista al questore al neocuestore di Teramo Enrico De Simone che dice reati la costa preoccupa dunque soprattutto problemi sulla costa teramana e ci sarà ovviamente maggiore sorveglianza proprio da parte delle forze dell'ordine e poi vedete in basso il SAP dice mancano agenti e il Monte Ferie è peggiorato parliamo della situazione nella casa circondariale Castronio di Teramo e poi falso allarme bomba in via Comi evacuata la sede dell'Unicredit e poi teatro comunale è pronto il nuovo bando per la gestione siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata ragazza investita pirata della strada in fuga con la moto l'incidente davanti al supermercato Oasi e poi ancora Giulianova presentata la rassegna Comici e Birra è sempre nella città Giuliese pedane di Sabili la TOSAP non si paga e poi c'è l'inchiesta per una presunta truffa del fotovoltaico per 800.000 euro 4 persone nei guai andiamo in basso si parla di maltempo sotto passaggi della Val Vibrata allagati ma l'opera di prevenzione ha funzionato Pineto e Silvi piegate assessore alluvionato noi proprio sul maltempo andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato la tanto attesa ondata di maltempo è puntualmente arrivata nelle ultime ore nella nostra regione con piogge violente vento e temperature in picchiata anche di 10-12 gradi i problemi maggiori si sono registrati a metà mattina nel Terramano e in provincia di Pescara a Colonia Spiaggia un'automobile rimasta bloccata nel sottopasso allagato di via della stazione a Tortoreto problemi in alcuni sottopassi mentre ad Albadriatica via Arno è stata chiusa per allagamenti grossi problemi anche fra Pineto e Silvi dove diverse strade si sono trasformate in torrenti con il traffico in tilt lungo la Nazionale Adriatica al confine con il territorio comunale della provincia di Pescara problemi di traffico anche lungo l'autostrada A14 nelle zone collinari e alla periferia di Atri ci sono stati alcuni smottamenti molti tombini saltati sotto la forza dell'acqua il mare grosso ha creato problemi sulle spiagge i fiumi ingrossati al momento però non destano particolare preoccupazione al lavoro in provincia di Pescara e nel Terramano vigili del fuoco polizia municipale e uomini delle altre forze dell'ordine un miglioramento è atteso solo nella giornata di domani questo dunque il punto sul maltempo nella notte fortunatamente c'è stata una piccola pausa nelle piogge e questo sicuramente è servito per far sicuramente migliorare la situazione soprattutto nelle zone come detto della costa dove ieri è caduta tanta pioggia siamo alla pagina giorno e notte del messaggero perché al via da domani un'importante manifestazione che si tiene a Città Sant'Angelo nel borgo nel centro storico di Città Sant'Angelo ecco le magiche notti dall'Etna al Gran Sasso il borgo di Città Sant'Angelo si prepara ad accogliere dunque gli appassionati e curiosi per la nuova edizione della Sagra che partirà domani e si concluderà il 24 luglio noi abbiamo ascoltato nel prossimo servizio andiamo a vedere il Sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi è probabilmente l'appuntamento più importante dell'estate angolana dall'Etna al Gran Sasso Sindaco un appuntamento di grande prestigio per la vostra città diciamo che è l'appuntamento più antico se no di appuntamenti importanti durante l'estate grazie al lavoro del mio Vice Sindaco Alice Fabiani c'è un cartellone di tutto rispetto certo la la festa dell'Etna Gran Sasso vista la la grande diciamo partecipazione che ogni anno registra è l'appuntamento clou poi si è arricchito anche l'anno scorso con questa notte delle mazzamarille nel rione Casale che quest'anno viene replicata e quindi ancora di più c'è attesa e aspettativa ecco l'unica cosa che non abbiamo potuto prevedere le condizioni meteo quindi approfitto della vostra cortesia per dire che già sabato 16 la manifestazione è annullata per ripartire domenica 17 quindi vi aspettiamo tutti numerosi con il buon mangiare e il divertimento assicurato per tutti una manifestazione importante che vuole servire anche per valorizzare il centro storico di Città Sant'Angelo beh io l'ho sempre detto da quando abbiamo fatto questa manifestazione abbiamo fatto conoscere il centro storico di Città Sant'Angelo anche a chi abitava nei comuni viciniori per esempio Pescara, Chieti Francavilla c'erano persone che non erano mai venute a Città Sant'Angelo con questa manifestazione in questi anni ci troviamo la tredicesima edizione avremo portato quasi un milione e mezzo di persone a vedere perché la manifestazione all'incirca fa sulle 100.000 presenze all'anno quest'anno sarà presente proprio uno stand dove il celiaco potrà tranquillamente mangiare i prodotti dell'Etna al Gran Sasso e mi sembra una cosa molto importante perché le sagre oramai è una realtà nostra dell'Abruzzo e mi sembra corretto che uno possa so già persone che venivano perché si riusciva anche l'anno scorso qualche cosina si è riuscita a fare quest'anno in grande stile dunque questa la presentazione di questa importante manifestazione dall'Etna al Gran Sasso che si terrà da domani al 24 luglio a Città Sant'Angelo noi siamo al quotidiano la città di Teramo prima pagina costa spaccata in due dal maltempo questo è il titolo che domina la prima pagina della città e poi De Simone passerà più tempo in strada che in ufficio parla il neo questore di Teramo andiamo a vedere le pagine interne della città partiamo dalla cronaca regionale si allunga l'elenco delle opere incompiute l'allarme lanciato dalla CIS in Abruzzo erano 33 nel 2014 adesso sono 40 i cantieri finanziati e bloccati e poi a Pescara sindacati contrari agli ipermercati aperti 24 ore su 24 e poi all'Aquila sisma il processo per i maxi affitti dell'Università dell'Aquila destinato alla prescrizione e siamo al maltempo la perturbazione flash storm mezza costa spaccata in due dal maltempo come detto colpite soprattutto le zone costiere delle province di Teramo e Pescara vedete le immagini con i sottopassi allagati anche problemi sulla spiaggia e la neve in montagna siamo a Teramo piazza Martiri si sveglia con l'allarme bomba valigetta dimenticata sulla vetrina dell'Unicredit case evacuate artificieri ma era un falso allarme bomba e poi in basso truffa del fotovoltaico quattro imprenditori a processo passerò più tempo in strada che in ufficio il nuovo questore Enrico De Simone 56 anni di Pescara nuovo questore di Teramo torna in Abruzzo dopo una carriera nell'anticrimine e nell'antiterrorismo andiamo a vedere il servizio si è insediato nella giornata di ieri il nuovo questore di Teramo che prende il posto di Giovanni Febo destinato alla pensione il 56enne di Simone di origine pescarese arriva da Enna dove lo scorso gennaio aveva ottenuto il suo primo incarico da questore un ritorno in Abruzzo diciamo dopo diversi anni che sono mancato ho fatto un po' di giri per l'Italia diverse esperienze sempre a livello investigativo e poi c'è stata questa decisione del capo della polizia di assegnarmi a Teramo dove spero di svolgere comunque un compito abbastanza efficace per la cittadinanza tra le altre cose De Simone ha diretto la sezione omicidi della squadra mobile di Roma ed è stato direttore di due divisioni dell'ufficio centrale investigazioni speciali di Roma a Roma esperienze sia nella polizia criminale come dirigente della sezione omicidi della squadra mobile di Roma e poi all'antiterrorismo a Lucigos dove mi sono occupato in prevalenza di fenomeni riguardanti sia l'islam che l'estremismo di carattere politico Su Teramo cosa le hanno detto? Più che di quello che mi hanno detto le notizie sono comunque positive conosco abbastanza bene il territorio perché essendo stata anche capo della squadra mobile di Pescara alla fine degli anni 90 diciamo che le realtà sono pressoché simili ho trovato un ottimo ambiente molto accogliente una bella squadra soprattutto di funzionari validi e quindi sicuramente si potrà lavorare molto molto bene anche perché le problematiche che riguardano soprattutto la zona costiera ci richiedono il massimo impegno queste dunque le prime parole del nuovo questore di Teramo Enrico De Simone andiamo avanti Grande Italia c'è un'offerta dopo il ribasso un imprenditore del settore commercio pronto a rilevare lo storico caffè dei portici di Corso San Giorgio a Teramo e poi il Braga spostiamolo all'ex Banca d'Italia la proposta del consigliere Angelo Puglia e poi ancora avanti un successone Frondarola trionfa i giochi senza frontiere proseguiamo con le pagine del quotidiano la città di Teramo siamo all'argomento che riguarda il ruzzo Antonio Forlini verso la riconferma questa mattina all'assemblea dei sindaci soci deciderà proprio per il sì al mandato bis per Forlini salvo sorprese dunque sarà rinnovata la fiducia al presidente andiamo a vedere il servizio di Elisa Leuzzo in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione della Ruzzo Reti i sindaci di centrosinistra esprimono apprezzamento per l'impegno profuso e il lavoro svolto dal presidente Antonio Forlini e ritengono che per il processo di risanamento ancora in itinere sia più funzionale evitare una interruzione dell'attuale governance e che sia più utile alla società pubblica che questo sia portato a termine da chi lo ha avviato tuttavia la delegazione di centrosinistra rappresentata dal presidente della provincia Renzo Di Sabatino è convinta che vi siano delle questioni che vadano affrontate prima di procedere all'eventuale riconferma del presidente uscente tra queste le modalità non condivise con le quali si arrivò alla sua nomina la perdurante criticità finanziaria ed economica della società e alcune criticità gestionali sostanzialmente dello stesso parere i sindaci di centrodestra io credo che in questo momento la politica che si sta facendo è una politica che deve una politica giusta che deve però come dire tendere ancora di più a risanare le casse del ruggio considerando che ci sono ancora dei problemi da risolvere quello per esempio dei debiti nei confronti degli enti io continuo a ripetere che il comune di Teramo deve prendere dalla ruzzo attraverso lato oltre 4 milioni di euro è troppo e quest'anno ancora non vediamo le 600 mila euro per l'anno 2016 non ci sono state ancora pagate noi viviamo una situazione di grande difficoltà e per me 4 milioni e 600 mila euro mi andrebbero a risolvere a migliorare a l'anticipazione di casse e mi permetterebbe anche di affrontare con maggiore serenità le spese quindi queste sono le cose principali poi sulla gestione ritengo ripeto che c'è stato questo accordo con l'ANCE che comunque come dire ha accantonato tutta una serie di problematiche ci sono ancora diverse cose da rivedere però tutto sommato la maggioranza dei sindaci si è spessa favorevolmente quindi ritengo che domani Forlini con le dovute eccezioni avrà il via libera per continuare questa sua attività Ancora pagina del quotidiano della città di Teramo coppia di colonnella nella trappola di Nizza dunque la testimonianza di Agostino Mazzocchi e Alessandra Falcioni che rassicurano i familiari su Facebook e poi Giulianova Mosciano il caldaista torna subito a Castrogno di Silvestre passa una notte a casa per un vizio di forma poi di nuovo in cella e poi viabilità sempre a Giulianova code interminabili per colpa di due semafori di troppo ancora avanti siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi la Digo si indaga per odio razziale siamo a Roseto la spedizione contro i migranti organizzata su Facebook sotto la lente della Questura e poi ancora a Silvi passi in avanti per il progetto della nuova bretella tornando a Roseto l'associazione Il Punto elegge i membri del direttivo siamo arrivati alle pagine della cultura e poi allo sport Teramo può essere il giorno di Luca Forte attesa la fumata bianca per la punta del Pescara che andrà a rimpinquare il reparto avanzato della formazione di mister Zauli tra l'altro dopo lo stop alla trattativa con Marco Sansovini allora andiamo a vedere le altre pagine dello sport del centro e poi del messaggero ovviamente grande spazio al mercato e alle notizie sui ritiri delle nostre squadre partiamo dal Pescara che è in ritiro a Palena ma si parla di mercato perché ci sono buone notizie per il difensore Gionberg che avrebbe deciso di scegliere il Pescara la Roma disposta a cedere in prestito il 24enne slovacco e poi in basso Fiorillo Sereno con Bizzarrice da imparare poi Biancazzurri a Palena come detto alimentazione regolata e doppio allenamento questa è la giornata tipo dei Biancazzurri fissati anche vedete in basso i prezzi dei biglietti per le amichevoli durante il ritiro andiamo a vedere proprio nel merito il 20 si giocherà la prima amichevole con il Pescara che affronterà la rappresentativa Palena Alto Aventino si giocherà le 17 il biglietto d'ingresso costerà 5 euro 8 euro per Pescara Teramo del 24 8 euro anche per l'amichevole del 28 luglio con il Frosinone mentre per la gara del 31 luglio Pescara Pineto si pagherà 5 euro andiamo ancora avanti siamo al calcio sempre abruzzese in questo caso di serie D club in crisi parla l'ex presidente dell'Avezzano Gentile che dice economia ferma così il calcio è peggiorato poi Lanciano i Maio rifiutano l'offerta romana la Virtus riparterà dalla terza categoria questo è il punto di domanda nell'articolo del quotidiano il centro poi Lega Pro l'attaccante croce parla e dice voglio entrare nella storia del club come detto vicino l'arrivo di Forte poi serie D a Chieti i tifosi manifestano Chieti siamo noi ma il futuro è a rischio andiamo ancora avanti il ciclismo domani la 69esima edizione del trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale azzurra Davide Cassani che ufficializzerà proprio al termine della classica pescarese i nomi degli azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Rio poi il basket FULS nuovo acquisto del Roseto dice torno con tanta esperienza andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero Ghiomber si avvicina al Pescara dunque il 24enne slovacco potrebbe essere tesserato dalla società Bianca Azzurra intanto Campagnaro dice il lavoro estivo mi aiuterà a stare meglio intanto depositato il contratto del tecnico Oddo firma per tre anni Oddo che questa sera riceve a Ripatiatina il premio Marciano noi andiamo ad ascoltare a proposito del Pescara il difensore Coda che è reduce da un fastidioso e lungo infortunio a disposizione comunque in questo ritiro del tecnico pescaresi ascoltiamolo un Pescara che si potrà valere anche delle prestazioni di Andrea Coda lo scorso anno non è andata bene per via di questo infortunio che ti ha messo praticamente fuori gioco all'inizio della tua nuova avventura in Bianca Azzurro hai gran voglia di riscattarti e di dimostrare di essere un giocatore all'altezza della Serie A del Pescara c'è stata questa rottura questo strappo di più o meno 7 cm abbiamo cercato in tutti i modi con staff e dottori di rientrare per i playoff ma forse è stato meglio così perché comunque non siamo andati incontro a una ricaduta che magari dovevi ristarfermo altri mesi e quindi abbiamo preferito farla chiudere la cicatrice farla chiudere nel miglior modo possibile di lavorare con più tranquillità in preparazione magari a un carico non proprio al 100% con un lavoro graduale man mano che passano i giorni però ecco di essere a disposizione di contare di essere alla fine del ritiro con più gamba sicuramente ecco la difesa è sicuramente sarà sicuramente il ruolo più sotto pressione nel prossimo campionato ci sarà bisogno di tutti Andrea Coda grazie anche alla sua esperienza è pronto a dare una mano ai più giovani certo io come ho detto anche all'altra televisione Pescara merita questa categoria perché come ho detto prima poche volte mi è capitato in carriera di avere un attaccamento un calore come ho vissuto i tre giorni dei festeggiamenti o come siamo arrivati dall'ultima partita di campionato o nelle partite dei playoff che arrivi ad avere 20-22 mila persone allo stadio è una cosa che in poche realtà hanno quindi sicuramente noi cercheremo ecco sicuramente di onorare nel migliore dei modi la categoria fino all'ultima giornata poi più o meno si aggira intorno sempre ai 40 punti due o tre punti più due o tre punti in meno ogni anno cambia però più o meno noi dobbiamo arrivare a 40 punti questa è l'intervista realizzata con il difensore del Pescara nel ritiro di Palena siamo al calcio di Lega Pro Teramo Campitelli parla il patron e dice presto una nuova coppia gol e poi Virtus Lanciano si tira indietro il gruppo dei Romani i rappresentanti della cordata dicono Maio non si è presentato martedì l'esclusione dalla Lega Pro poi si spera in Candeloro e poi Serie D l'Aquila occhi puntati su Buon Vissuto e Russo Aquila che sta allestendo una formazione in grado di recitare davvero il ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Serie D e poi Atletica Europei mezza maratona deludente per Donofrio di nuovo il calcio Serie D ci sono altri due gruppi pronti a rilevare il Chieti dal patron Pomponi e poi il calcio Giuliesa Real Giulianova due pezzi nuovi Fuschi e Naziconi questa è l'ultima pagina dello sport del messaggero siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di sabato 16 luglio con Mattino Sela consueta rassegna stampa quotidiana della nostra emittente a me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi il prossimo appuntamento informativo della giornata come sempre alle ore 14 per la prima edizione del nostro telegiornale è davvero tutto grazie e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti